Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie Imperatores con cui raccontiamo la storia dell'impero romano attraverso i suoi protagonisti più particolari, cioè ovviamente gli imperatori. Abbiamo lasciato l'epoca classica dell'impero, abbiamo superato la fine dell'impero romano d'occidente, la caduta dell'Italia nelle mani dei barbari, degli ostrogoti, anche se tra poco in Italia ci torneremo. Abbiamo scavallato il V secolo e la scorsa puntata con Anastasio siamo entrati nel VI secolo, un secolo fatto di problemi economici, problemi religiosi e problemi militari, insomma gli stessi problemi che l'impero ha avuto dai tempi di Augusto fino ad adesso. L'imperatore di oggi è particolare perché con lui iniziamo una nuova dinastia, e questo già è un buon cambiamento, ma soprattutto abbiamo di nuovo un imperatore che viene letteralmente dal nulla, un imperatore che si è fatto da solo, se così vogliamo, e che partendo da essere un semplice pastore, così raccontano gli storici dell'epoca, è riuscito ad arrampicarsi fino a diventare proprio il capo dell'impero. Un capo dell'impero che aveva però una particolarità, così dicono forse alcuni suoi detrattori, quello di essere rimasto completamente analfabeta, tanto che l'unica cosa che sapeva fare era ricopiare la scritta o letto sui documenti ufficiali, che ovviamente gli venivano però letti da qualcun altro, dato che lui non sapeva leggere, in modo da indicare di averlo fatto. Insomma, un imperatore particolare, in un periodo particolare dell'impero, che darà però vita a alcune cose che svilupperemo nelle prossime puntate e che porteranno a grandi cambiamenti. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, o iscrivetevi al nostro canale Whatsapp per lo stesso motivo, sigla, e poi iniziamo a raccontare. Sulle origini di Giustino, come sempre, non sappiamo tantissimo. Sarebbe nato intorno al 450 d.C., grosso modo tra il sud dell'attuale Serbia e il nord dell'attuale Macedonia del Nord. È difficile definirlo perché, a seconda delle fonti, lo si trova nato a Tauresio, che si trova nell'attuale Macedonia del Nord, dove però è nato anche il suo successore e la cosa fa pensare che ci possa essere stato una qualche confusione o qualche chilometro a sud di Nissa, che attualmente si chiama Nissa e che si trova invece in Serbia. Poco male, le distanze non sono grandi. Quel che è certo è che quella era la sua origine. Si pensa che la famiglia, seppur di lingua romana, e questa è una cosa importante da dire d'ora in avanti, perché presto avremo imperatori che invece non sono più di lingua romana ma inizieranno a essere di lingua greca, bene, pare che, nonostante fosse di lingua romana, avesse origini illiriche, una delle tante tribù che facevano parte di questo popolo in varie zone dei Balcani o comunque in origini locali. Ad ogni modo, come vi dicevo nell'introduzione, il nostro era nato tutto che da nobili natali, anzi, si racconta che da giovane facesse il pastore, fino a quando l'ennesima incursione fatta dagli Unni aveva devastato le terre dove viveva, dove lavorava e per questo, insieme ad altri due compagni, aveva deciso di lasciare la propria terra e di arruolarsi nell'esercito romano. Che cosa ne fu degli altri due compagni? Non lo dicono le fonti. Invece lui riuscì a fare carriera, partendo dal livello più basso, progressivamente scalando posizioni all'interno dell'esercito romano, prendendo parte a tantissime battaglie in occidente contro i Goti, in oriente contro i Sasanidi durante la guerra di Anastasio e dimostrando ogni volta il suo valore, sia come soldato semplice che poi anche come comandante. Si racconta che in questo periodo uno dei suoi comandanti lo avesse preso in odio perché temeva che a causa delle sue capacità potesse sottragli il posto e avesse ad un certo punto progettato di farlo assassinare, accusandolo di qualcosa di falso, ma sarebbe stato fermato da un sogno in cui gli era stato annunciato proprio il fatto che Giustino un giorno sarebbe diventato imperatore. È finito il periodo del paganesimo a Roma, ma certe tradizioni di sogni, preveggenze, eccetera, continuano ad esserci. Ce l'abbiamo visto con i primi imperatori, continuano ad esserci ancora fino ad oggi. Ovviamente è probabilmente completamente inventato. Ad ogni modo, Giustino, in questa sua scalata al potere, aveva avuto il tempo anche di sposarsi. Di sposarsi con una donna, anche lei, proveniente dal popolo, una schiava, anzi una schiava che era stata liberata e che poi aveva sposato Giustino quando ancora era un semplice soldato, e che si chiamava Lupicina, ma che quando i due diventeranno, quando Giustino diventerà imperatore, cambierà nome in Eufemia. Una donna che pur rimanendo dietro le quinte, anche nel periodo di Giustino imperatore, in qualche modo influenzerà la sua politica, probabilmente continuandola a consigliare anche dato il lungo periodo di legame tra i due. I due però non ebbero figli, o se ne ebbero, non sopravvissero fino al momento in cui Giustino divente imperatore. Tanto che, ad un certo punto, man mano che saliva la scala sociale, e quindi acquisiva ricchezza e potere rispetto al resto della sua famiglia, Giustino decise di adottare il proprio nipote, il figlio della sorella, che si chiamava Flavio Pietro Sabbazio, e che fin da giovanissimo aveva dimostrato di essere una mente aperta, una mente pronta, molto intelligente, e che grazie all'aiuto dello zio, ora padre acquisito, riuscirà a fare carriera all'interno dell'esercito, seguendo molto rapidamente appunto la carriera dello zio padre, insomma, scegliete voi come definirlo. Ad ogni modo, quando nel luglio, il 9 luglio del 518 d.C., Anastasio, il predecessore di Giustino, che abbiamo raccontato nella scorsa puntata, morì, Giustino si trovava in un ruolo veramente molto molto importante, cioè era capo degli ex cubitores, cioè letteralmente coloro che dormivano fuori dalle stanze dell'imperatore, cioè detto in maniera un pochettino più semplice, le guardie del corpo dell'imperatore. Insomma, era capo di quelle truppe che facevano da guardie all'imperatore, e cosa più importante, era capo delle principali truppe di stanze a Costantinopoli. Ora, come ha fatto un uomo del genere a diventare imperatore? Beh, partiamo da un presupposto. Anastasio, al momento della morte, non lasciò degli eredi diretti, l'abbiamo raccontato nella scorsa puntata, non aveva figli, era, se vogliamo, l'ultimo della dinastia di Leone, anche se in realtà le parentele erano molto sottili, lui aveva sposato Ariadne, la figlia di Leone, ma era stato un matrimonio di comodo, e la stessa Ariadne che lo aveva posto sul trono era già morte, quindi ogni legame della dinastia era finito. Aveva in effetti, come abbiamo raccontato, tre nipoti, che si chiamavano Ipazio, Pompeo e Probo, ma non solo questi tre nipoti non avevano dato gran prova di sé, soprattutto Ipazio, che era il maggiore e che anzi aveva partecipato a due conflitti ed era stato sconfitto entrambe le volte, ma tutti e tre i nipoti, al momento della morte di Anastasio, si trovavano lontano da Costantinopoli. Secondo una tradizione, anche in questo caso successiva e difficile che fosse quella vera, in realtà sarebbe stato proprio Anastasio a scegliere Giustino come suo successore. Si dice che, sentendo la morte arrivare, come avevo raccontato nella scorsa puntata, avesse deciso di chiamare a sé i tre nipoti, ma prima di farli arrivare avrebbe preparato di fronte al suo trono tre divani, sotto uno dei quali aveva lasciato un biglietto su scritto che chi lo fosse seduto su quel divano sarebbe diventato imperatore. Il problema è che nessuno dei tre nipoti si sedette su quel divano, perché rimase vuoto, due nipoti si sedettero sullo stesso divano, si dice perché fossero amanti, ma ovviamente è una leggenda, e dopo che se ne furono andati, Anastasio, un po' sconsolato, decise che il primo uomo ad entrare nella sua stanza al mattino dopo sarebbe diventato imperatore dopo di lui. E chi entrò per primo nella sua stanza? Ovviamente il comandante delle sue guardie del corpo, cioè Giustino. È accaduto veramente? Assolutamente no, o meglio, è difficile pensare a una storia del genere. In realtà, alla morte di Anastasio, il 9 luglio del 518 d.C., a decidere chi sarebbe dovuto essere il nuovo imperatore furono tutta una serie di gruppi di potere. Gruppi di potere che erano o stati favoriti dal precedente imperatore o ne erano stati sfavoriti. Ora, tra i favoriti sicuramente c'erano coloro che si occupavano di commercio, che erano stati favoriti dalle politiche economiche dell'imperatore, ed erano stati favoriti dall'imperatore anche tutti coloro che dal punto di vista religioso si riconoscevano come monofisiti. Ci torneremo dopo su questo, ma ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate. Casualmente, tra la popolazione di Costantinopoli, come abbiamo raccontato più volte, era divisa in fazioni che prendevano i nomi dai colori delle fazioni sportive all'interno dell'ippodromo, i verdi incarnavano esattamente questo prototipo. I loro capi provenivano dalla ricca borghesia, erano principalmente monofisiti, e quindi erano stati favoriti e molto legati ad Anastasio, e volevano per primi che il nuovo imperatore mantenesse le linee guida che erano state appunto di Anastasio. Dall'altra parte, chi invece era stato sfavorito dall'imperatore precedente, cioè principalmente gli aristocratici, che a causa delle politiche economiche di Anastasio avevano perso parte della loro ricchezza, e coloro che dal punto di vista religioso si riconoscevano come ortodossi, cioè seguivano il credo di Calcedonia, che era stato imposto appunto a Calcedonia, che poi progressivamente era stato abbandonato dagli ultimi imperatori, bene, questi invece volevano un nuovo imperatore, qualcuno che cambiasse le cose. E in chi si incarnava la perfetta figura di questo, di costui che voleva un cambiamento politico, beh, si incarnava nella figura degli azzurri, cioè gli estremi oppositori dei verdi, l'altra metà del cielo all'interno dell'impodromo, che appunto avevano dei capi principalmente aristocratici, proprietari terrieri e ortodossi, credenti nel credo di Calcedonia. Oltre a questi c'erano altri gruppi di potere, c'era l'esercito, che ovviamente aveva delle proprie idee su chi nominare, qualcuno ad esempio diceva che si poteva nominare imperatore vitaliano, cioè quel generale che negli ultimi anni, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, si era opposto ad Anastasio proprio per motivi religiosi, e che comandava delle truppe nella zona della Traccia, purtroppo per lui era però un po' troppo lontano dalla città per far varere la sua forza. Altri invece dicevano che si poteva scegliere qualcuno all'interno della corte. Alla fine, dopo che vari candidati erano stati proposti, abbattuti, messi da parte, tornati in auge e così via, e pare anche con l'aiuto di Flavio Pietro Sabbazio, il nipote di Giustino, che sapeva muoversi dal punto di vista politico ed era riuscito a bloccare i candidati principali, alla fine il candidato che venne fuori era proprio Giustino, il quale probabilmente aveva tre caratteristiche che piacevano a tutti. La prima era, come abbiamo detto, che era il comando delle principali truppe di stanza a Costantinopoli. In quel momento in cui buona parte delle truppe erano impegnate a combattere contro l'Italiano in Traccia, quelle che rimanevano, le forze principali, erano proprio le guardie del corpo dell'imperatore. Inoltre era grandicello, era abbastanza vecchiotto, aveva già più di 60 anni al momento della salita al trono, e questo voleva dire che probabilmente non avrebbe regnato a lungo e presto qualcuno l'avrebbe potuto sostituire. Inoltre, nonostante l'adozione di Flavio Pietro Sabbazio, non c'era un figlio legittimo che potesse succedere in maniera diretta, quindi altri, tra cui probabilmente lo stesso Vitaliano, potevano sperare di farsi strada e di diventare i successivi imperatori. Inoltre, ed era questo che metteva poi d'accordo buona parte della popolazione di Costantinopoli, che alla fine era in maggioranza ortodossa, a differenza del sud e della zona dell'Egitto e della Siria, Giustino era ortodosso, e questo, dopo tanti anni di Anastasio, piaceva a tutti. Il risultato fu che il giorno successivo alla morte di Anastasio, il 10 luglio del 518, Giustino venne incoronato imperatore. La sua fu una cerimonia un po' più semplice rispetto a quella dei predecessori, si limitò a parlare col patriarca, che lo incoronò, parlò con l'esercito, che lo sollevò sugli scudi, in questo modo riconoscendo l'imperatore, e alla fine si presentò al popolo nell'ippodromo. In questo modo, favorendo ovviamente gli azzurri, anche se in realtà, come vedremo, manterrà una politica, in qualche modo, equidistante, favorendo uno economicamente e l'altro dal punto di vista religioso, e venendo accettato dal popolo di Costantinopoli, che, bisogna dire, almeno all'inizio, grossi problemi a questa presa di potere da parte di Giustino, non li fece. Anzi, dopo anni di sommosse rivolte contro Anastasio, in qualche modo la situazione a Costantinopoli andò pacificandosi. Come vi dicevo, però, dal punto di vista politico, Giustino, pare anche con la guida della moglie Eufemia e del nipote Pietro Sabbazio, fu abbastanza bravo nel muoversi, mantenendo un certo equilibrio. Dal punto di vista economico, nonostante le speranze dell'aristocrazia terriera, si guardò bene dal toccare le riforme di Anastasio, che, dopo tutto, avevano fatto molto bene all'impero, perché ne avevano stabilizzato l'economia, riempito le casse, avevano reso lo Stato più forte, più saldo, e quindi, come vi dicevo, si guardò bene di modificarne le riforme, mantenne le politiche sulla riscossione dei tributi, compresa la tanto vituperata da parte dell'aristocrazia politica, che prevedeva che le tasse dell'annona, cioè le tasse sulla produzione agricola, dovessero essere strettamente pagate in monete e non in natura, non utilizzando i prodotti della terra, cosa che ovviamente sfavoriva i proprietari terrieri. mantenne il calmiere sui prezzi, per evitare che questi facessero salire l'inflazione, e mantenne uno stretto controllo sull'emissione delle monete in rame, sul Follis, il cui valore rimase stabile durante il suo regno, così come aveva voluto Anastasio, e questo permisa all'economia dell'impero di continuare a prosperare anche durante il suo regno. Ebbe però anche un altro effetto, che vedremmo poi aumentare durante il regno del suo successore, cioè un progressivo inurbamento della popolazione dell'impero, che progressivamente inizierà a lasciare le campagne, anche perché appunto iniziavano a diventare più povere, e a spostarsi verso la città. Un processo che verrà terminato, ve lo dico chiaramente solo con l'apparire della peste bubonica, che colpirà molto più duro in città, data la maggiore concentrazione di popolazione, e interromperà questo processo, ma che in questi anni spingerà sempre più persone verso la città. Una cosa che da una parte rappresentava un vantaggio, perché quella a mano d'opera poteva essere utilizzata per vari progetti, non ultimo l'esercito, ma dall'altra parte rappresentava anche uno svantaggio, perché ovviamente dovevano in qualche modo essere sfamati, dovevano essere controllati, e talvolta potevano cadere preda di vari movimenti politici che li utilizzavano per i propri scopi. Insomma, la situazione non era sempre così favorevole. Aggiungiamoci, ma ne parleremo meglio dopo, che la popolazione dei Balcani seguirà ancora di più questo progressivo inurbamento a causa dell'arrivo di nuove invasioni, nuovi popoli, in particolare popoli protoslavi, che a differenza dei predecessori tenderanno a stabilizzarsi nei territori che invaderanno, e in questo modo spingeranno i romani a lasciare i territori centrali dei Balcani e a spostarsi verso le coste. Ma di questo ne parleremo meglio dopo quando parleremo dal punto di vista militare. Se però, dal punto di vista economico, aveva mantenuto quelle che erano le leggi di Anastasio, dal punto di vista religioso, fece invece una completa inversione a U, non solo rispetto ad Anastasio, ma anche rispetto al suo predecessore, cioè Zenone. Ora, come abbiamo raccontato più volte, quindi lo sintetizziamo, se non andatevi a rivedere le scorse puntate, l'Impero d'Oriente, in quella fase, era diviso dal punto di vista religioso sull'interpretazione di quali fossero, come fossero le nature di Cristo. Ora, il credo ortodosso, cioè quello che seguiva i dettami del concilio di Calcedonia, l'ultimo che era tenuto, e che peraltro era lo stesso che era seguito anche in Occidente, perché era lo stesso seguito dal Papa, il credo ortodosso, che era maggiormente diffuso nella zona anatolica e nei Balcani, credeva che le nature di Cristo fossero due, cioè una natura divina e una natura umana. Due nature inseparabili, ma tra loro distinte, e per questo venivano detti anche diofisiti, ma se possiamo chiamare ortodossi è un po' più facile. Dall'altra parte, però, nella parte più meridionale del paese, in Siria e in Egitto, le idee erano diverse. C'era chi diceva che le due nature fossero strettamente connesse fra di loro, non separabili, e che in qualche modo si fossero legate, ed erano i miafisiti, e c'era chi invece diceva, ed erano maggiormente diffusi, lo stesso Anastasio, l'imperatore precedente lo era, coloro che invece dicevano che le due nature di Cristo fossero una sola in realtà, cioè che quella divina, in qualche modo, avesse assorbito quella umana, ed erano detti monofisiti. Ora, come vi dicevo, vari imperatori avevano trovato soluzioni diverse per risolvere questo problema, che ovviamente rischiava di spaccare l'impero, perché non era una piccola eresia seguita dal 2-3% della popolazione, ma in Egitto e in Siria era seguita da grandi masse di popolazioni che potevano ribellarsi contro il governo centrale. Qualcuno aveva lottato contro questa eresia, qualcuno aveva cercato un bilanciamento, Zelone aveva fatto e promulgato l'Enoticon, cioè una legge che prevedeva che sostanzialmente il concilio di Calcedonia non venisse disconosciuto, cioè non veniva condannato, ma non venisse troppo considerato, sostanzialmente lasciando maggiore libertà ad ognuno di seguire quello che voleva. Anastasio sulla carta aveva confermato l'Enoticon, che peraltro aveva creato uno scisma tra Oriente e Occidente, cioè col Papa che non lo riconosceva, e però aveva continuato a favorire i monofisiti, cercando di sostituire i patriarchi, compreso quello di Costantinopoli, con degli uomini che fossero a lui affini dal punto di vista religioso. La cosa, come vi dicevo, aveva provocato rivolte in città a Costantinopoli, ma aveva provocato, insieme ad altre cose che abbiamo raccontato nella scorsa puntata, la rivolta da parte di Vitaliano. Ora, nei momenti più cupi di questa rivolta, cioè quando veramente Anastasio aveva temuto che Vitaliano potesse prendere Costantinopoli, aveva preso contatti con il Papa, con cui, ricordiamo, la Chiesa d'Oriente era separata a causa di questo scisma, il Papa e il Patriarca si erano rispettivamente scomunicati e non si riconoscevano l'un l'altro. Aveva preso contatti con il Papa, che all'epoca si chiamava Ormisda, aveva proposto un accordo, aveva proposto di tenere un incontro, un incontro appunto tra i principali vescovi a cui avrebbe partecipato anche il Papa, per cercare di trovare una soluzione, di tenere un sinodo. Quando però Vitaliano era stato sconfitto dalla marina fedele ad Anastasio, guidata da Marino di Siria, ed era stato così costretto a ritirarsi, ad abbandonare Costantinopoli, Anastasio era venuto meno alla sua parola. e prima aveva proposto di tenere un sinodo senza la presenza del Papa, ma solo con alcuni suoi delegati, e alla fine aveva rinunciato in toto alla cosa. Ora, quando Giustino salì al potere, come vi dicevo, cambiò completamente questa visione dal punto di vista religioso. Innanzitutto prese accordi con Vitaliano, che pochi mesi dopo la salita al potere di Giustino venne non solo riconosciuto ufficialmente come Magister Militum della Traccia, cosa che già Anastasio aveva riconosciuto per poi ritirare, insomma era stato un lungo conflitto, ma soprattutto venne riunito al potere a Costantinopoli. In realtà ci rimarrà pochissimo, perché verrà assassinato pochi mesi dopo, secondo alcuni dal nipote di Giustino, Pietro Sabazio, che temeva che Vitaliano potesse prendere un po' troppo potere. Dopodiché Giustino prese contatti con Papa Ormisda, e d'accordo con il Papa, dopo neanche un anno di regno, decise di disconoscere l'Enoticon e far terminare in questo modo lo scisma. Le due chiese tornarono in questo modo a parlarsi, tornarono a riunirsi, tornarono a seguire lo stesso credo, e Ormisda per questo è anche ricordato dalla Chiesa Cattolica come santo. C'è una curiosità, Ormisda avrà un figlio naturale che sarà anche lui Papa, Papa Silberio, avrà un po' meno fortuna del padre, ma insomma è una piccola curiosità. Ad ogni modo, dal punto di vista religioso, quella di Giustino sarà ovviamente una visione molto vicina agli ortodossi, che in qualche modo farà perdere posizione i monofisiti, che infatti perderanno quasi tutte le cattedre principali, a cominciare dal patriarcato di Antiochia, che passerà ad un vescovo ortodosso. In realtà, la situazione continuerà a essere difficile. Come vi dicevo, anche i suoi successori dovranno averci a che fare. Alcuni con metodi che politicamente saranno molto interessanti, ma ne parleremo meglio nelle prossime puntate. Dal punto di vista militare e diplomatico, invece il regno di Giustino, che non fu lungo come vedremo, non sarà particolarmente complesso, a parte la zona balcanica, ci torneremo dopo, soprattutto con l'Oriente, con cui la pace siglata tra Anastasio e il sovrano dei Sasanidi riuscì a reggere. In realtà Giustino, in Oriente, continuerà quella che era stata la politica di Anastasio, mettere da parte l'accordo che era stato siglato con i Sasanidi da Teodosio II, quasi un secolo prima, che prevedeva di non fortificare il confine, e invece continuare la costruzione di fortificazioni, con l'idea che prima o poi queste fortificazioni sarebbero potute servire. Inoltre, Giustino prenderà contatti con alcune popolazioni del Sud e del Caucaso, in particolare con gli Iberi, che si erano sempre mossi a metà tra i Sasanidi e i Romani, cercando con loro l'alleanza, di modo che, se i Sasanidi avessero attaccato da questa zona, i Romani potessero contare sul loro aiuto per poter combattere. Inutile dire che questi movimenti, pur assicurando una certa protezione all'Impero, dall'altra parte stuzzicarono parecchio i Sasanidi, e questo presto porterà una nuova guerra sotto il regno del suo successore. Ad ogni modo, in questa fase, i Sasanidi erano in qualche modo più interessati loro dei Romani alla pace, anche perché stavano subendo un periodo di riforme, di rinnovamento dal punto di vista interno, anche perché erano da poco usciti da una serie di problematiche religiose, che avevano anche fatto parecchio traballare il trono, ed erano in una fase di consolidamento e riforme. Ma presto torneranno a disturbare, tra virgolette, i Romani. Da punto di vista militare, i Romani si muoveranno anche verso sud, verso il Mar Rosso. Non lo faranno direttamente con le loro forze militari, ma utilizzando per questo la religione, cercando di diffondere la religione cristiana nel sud dell'Egitto, e poi ancora più a sud, lungo il Mar Rosso, per creare delle popolazioni, in qualche modo legate, almeno dal punto di vista religioso, a Costantinopoli, e quindi più vicine all'Imperatore. In questo modo, tenendosi aperta una via per il commercio, contando che le altre vie per verso l'Oriente, erano bloccate dai Sasanidi a sud e dagli Unni a nord. Insomma, era complicato da prendere, e il Mar Rosso era per questo molto, molto importante. Come vi dicevo però prima, la situazione più complessa era nei Balcani. Nei Balcani, dove, così come fatto già anche da Anastasio e in parte da Zenone, l'Imperatore di Costantinopoli, Giustino, aveva deciso di abbandonare buona parte del territorio, senza difenderlo più di tanto, occupandosi solo di difendere la capitale, cioè Costantinopoli. È una visione, secondo alcuni, abbastanza miope, perché a Costantinopoli si considerava i Balcani una zona secondaria, dal punto di vista economico e militare, ma era una zona che, nei secoli, non solo aveva fornito all'Impero valide truppe, validi imperatori, ma aveva fornito anche molta ricchezza. Il risultato fu che, venuta meno la protezione da parte dell'Impero, che diciamolo chiaramente si occupava più che altro di difendere Costantinopoli e non che si disinteressasse di tutto quello che c'era oltre, ma non è che fosse così tanto interessato, ebbene, venuta meno la protezione dell'Impero, varie popolazioni invasero quei territori. Lo abbiamo già detto prima, a cominciare da popolazione protoslave, cioè antenate degli slavi, tra cui ad esempio gli Anti, che pare che fossero addirittura arrivati quasi a mettere sotto assedio Costantinopoli, i quali però, a differenza delle popolazioni che precedentemente avevano invaso i Balcani, non avevano né intenzione di razziare e di tornarsene indietro, così come facevano gli Unni, né avevano intenzione di accordarsi con i Romani, così come avevano fatto i Goti, ma preferivano arrivare in queste terre, stanziarsi, cacciare la popolazione romana che si spostava verso sud o verso le coste adriatiche, che erano maggiormente difese, e andarsi a stanziare lì, attuando una progressiva sostituzione etnica. In questo modo verranno progressivamente meno delle città che erano state molto importanti, le abbiamo nominate tante volte in questa serie, come Sirmio, tanto per fare un esempio, la stessa Nissa, che perderanno parte della popolazione romana e vedranno questa sostituzione. Peraltro queste popolazioni avevano un'altra differenza rispetto alle altre, non erano cristiane, mantenevano i loro culti e quindi avevano ancora meno legami con Roma, e, a differenza dei Goti, non erano interessati a prosperare all'interno dell'Impero, ma erano interessati semplicemente a gestire direttamente le loro terre. Questa fase vide anche un movimento molto particolare. Ora, ricordate che un tempo Roma, dai tempi dell'imperatore Traiano, aveva avuto una provincia che si trovava a nord del Danubio, cioè la Dacia, quella provincia era stata abbandonata dai tempi di Aureliano, perché considerata troppo difficile da difendere, e una parte della popolazione romana l'aveva lasciata rispostandosi verso sud. Una parte della popolazione era però rimasta in quei territori, e si era ovviamente trovata in casa vari popoli invasori. Bene, in questi anni, e poi anche sotto il regno del successore di Giustino, pare che una parte della popolazione romana che viveva a sud del Danubio, di fronte all'invasione degli Slavi, che provenivano da nord e che ovviamente lasciavano quelle terre libere, decise di attraversare nuovamente il Danubio verso nord, andarsi a stanziare nelle terre lasciate libere da questi protoslavi, e qua tornare a prosperare. E secondo alcuni questo movimento, unito a coloro che già si trovavano lì, avrebbe mantenuto il linguaggio latino in queste zone, e portato quindi alla curiosa situazione linguistica dell'attuale Romania. La cosa non è ancora molto studiata, non è ancora molto chiara, perché ovviamente le fonti non ne parlano particolarmente, ma pare che questo processo appunto sia avvenuto in realtà in due tempi, rispetto a cosa si pensava una volta, in cui si diceva che erano solamente romani che erano rimasti in dacia dopo la ritirata dell'Impero. Anche il nord dei Balcani avevano dei problemi, perché popoli come i Longobardi, i Gepidi, gli Avari, di cui tra poco sentiremo parecchio parlare, avevano iniziato ad affacciarsi al nord dell'Impero, e ne avevano iniziato ad occupare dei territori nella zona balcanica. Inoltre, anche dal punto di vista religioso, la parte nord dell'Impero si era in parte distaccata dal dominio di Costantinopoli, perché più vicina, più affine dal punto di vista religioso, al pensiero di Roma, quindi del Papa. Insomma, era una situazione complessa, ma in questa fase gli imperatori si concentreranno principalmente sull'Oriente, forse ha ragione perché è zona ricca, non riuscendo a mantenere anche l'Occidente. In effetti, una cosa che mancava ed è interessante anche di questo parlarne, erano le truppe, perché abbiamo visto l'Impero attraversare vari momenti dal punto di vista dell'utilizzo delle truppe, dall'utilizzo di truppe squisitamente romane addestrate alla moda romana, dopo Adrianopoli, progressivamente il passaggio a truppe principalmente mercenari e principalmente barbare, goti, alani, insomma di varia provenienza, unni addirittura. Ora, anche queste truppe in Oriente stanno iniziando a venire meno, anche perché ci si è un po' resi conto che non sono così di fiducia. E così, progressivamente, stanno iniziando a comparire i bucellari, che sono delle truppe molto probabilmente provenienti dall'interno dell'Impero, in questa fase principalmente dalla zona anatolica, che venivano assoldate da signori comandanti locali e probabilmente utilizzati anche in alcune campagne. È in atto una trasformazione, che in realtà raggiungerà poi il suo culmine solo tra parecchio tempo con l'Imperatore Eracchio I, che porterà una riorganizzazione militare all'interno dell'Impero. Ripeto, siamo ancora lontanissimi dai temi che verranno creati da Eracchio, ma pian pianino ci stiamo arrivando. Ricordatevi sempre che i processi storici veramente iniziano dall'oggi al domani, ma hanno sempre un'evoluzione. Ne parleremo meglio anche di questo nelle prossime puntate. Rimani un ultimo punto da affrontare dal punto di vista politico, e quel punto sono i rapporti con l'Occidente. Nel 523 d.C., infatti, Anastasio emanò una legge che andava a condannare fortemente un'altra eresia cristiana, cioè l'arianesimo. Ora, in realtà, in Oriente, l'arianesimo non rappresentava un problema, non era seguito dalla popolazione romana, era seguito da alcuni gruppi di mercenari goti o di altri popoli che però ormai non erano più così numerosi, ma, e inoltre, aggiungiamoci, era già stato condannato dal punto di vista religioso, quindi la legge di per sé aveva pochissimo valore dal punto di vista interno. Aveva però un grande valore dal punto di vista della politica estera, perché ariani erano buona parte dei popoli che si erano andati a stanziare nella parte occidentale, in quella che è un tempo era la parte occidentale dell'Impero Romano. Erano ariani i Visigoti in Iberia nel sud della Gallia, erano ariani i Vandali in Africa, e questo, ovviamente, non fece che raffreddare i rapporti tra questi popoli e Costantinopoli, che, diciamolo, non è che fossero particolarmente accesi. Dall'altra parte, però, c'era un altro problema. Era ariano anche Teodorico, Teodorico che, con i suoi Ostrogoti, governava in Italia, dove governava come re degli Ostrogoti, ma anche come Patrizio di Roma, quindi, teoricamente, sottoposto alle leggi dell'Imperatore. Inutile dire che la cosa creò parecchi problemi, e Teodorico decise di mandare il Papa, che nel mente era cambiato si chiamava Giovanni, a Costantinopoli per cercare di convincere l'Imperatore a ritirare questo suo editto. Quando, però, Giovanni arrivò a Costantinopoli, secondo alcune fonti, pur cercando di convincere l'Imperatore a fare un atto di realpolitik, anche il Papa, ovviamente, non era ariano, ma temeva per i rapporti con Teodorico, non riuscì, però, a convincerlo. In realtà, molte altre fonti ci fanno credere che Giovanni non ci provò proprio. Anzi, quando arrivò a Costantinopoli, trovò un clima, dal punto di vista religioso, che, stante anche il riavvicinamento, gli fu molto amico. Molti patriarchi giunsero, e vescovi giunsero a Costantinopoli per incontrarlo, lo stesso patriarca di Costantinopoli gli lasciò il primo posto, così come era previsto, dopo tutto il Papa era successore di Pietro, nelle cerimonie, ufficiò addirittura messa all'interno di Santa Sofia. Lo stesso imperatore pare che avesse chiesto al Papa di incoronarlo per una seconda volta, e tutti sembravano d'accordo nel sostenere la posizione papale e di condanna all'arianesimo. Diciamo tutti tranne uno. Il patriarca di Alessandria, che si chiamava Timoteo IV, pare che non fosse molto d'accordo, dopo tutto lui era un mia fisita, e la posizione del Papa non è che gli piacesse troppo. Ma mettiamolo da parte. Il grosso della Chiesa era insieme al Papa. Il problema è che quando Giovanni tornò in Italia, ad attenderlo non trovò esattamente folle festanti, ma trovò un Teodorico che a causa della legge aveva iniziato a sbarazzarsi di alcuni di coloro che lo opponevano, a cominciare dal grande filosofo Severino Boezio, da alcuni senatori, e quando il Papa tornò, saputo che non era riuscito a ottenere quello che voleva, decise di imprigionarlo a Ravenna, dove il Papa alla fine morì. E tutto questo, come è facile pensare, porterà ad una definitiva frattura tra l'Italia, tra Teodorico e l'Oriente. Ma di questa frattura ne parleremo nella prossima puntata. Perché, come abbiamo detto nell'introduzione, Giustino salì al potere, che era già decisamente avanti di età, e nel 526 d.C., dopo sei anni, dopo otto anni, chiedo scusa, al potere, iniziò a dimostrare i primi segni di invecchiamento. Dimostrò di non essere più in grado di reggere la carica di imperatore, tanto da appoggiarsi sempre di più alla figura del nipote, quel Pietro Sabbazio che lo aveva già accompagnato per tutto l'Impero. Tanto che secondo alcuni, in realtà, Pietro, in questa fase, già governava in maniera abbastanza aperta l'Impero. Peraltro, Pietro Sabbazio sfrutterà questo nuovo potere anche per dei motivi personali. Perché, pensate, nonostante potesse probabilmente avere tutte le nobildonne che voleva, si era innamorato anche lui di una donna del popolo. Una donna che, da giovane, aveva fatto l'attrice di Mimo, qualcuno diceva che avesse fatto anche la prostituta, che era stata prima sua concubina e che, però, ad un certo punto, Pietro, che si era follemente innamorato, aveva deciso di sposare. La cosa rappresentava un problema, però, dal punto di vista legale. Perché a causa di una legge, pensate, emanata addirittura da Costantino il Grande, che si arriva ad evitare che i patrimoni dei senatori finissero in chissà quale mani, i senatori, i patrizi, non avevano la possibilità di sposare delle attrici o delle serve. Pietro Sabbazio fece di tutto affinché quella legge venisse tolta, ma Eufemia, la moglie di Giustino, impedì ogni volta che questo potesse avvenire. Quando, però, Eufemia morì e Giustino, ormai invecchiato, si appoggiò in tutto e per tutto al nipote, quella legge venne tolta e così Pietro Sabbazio riuscì a sposare la moglie che tanto voleva. Alla fine, nell'aprile del 527 d.C., un Giustino, ormai invecchiato e probabilmente avviato verso la demenza senile, decise di nominare Pietro Sabbazio come suo co-Augusto. Due Augusti a reggere il trono. In realtà ormai Giustino solo di figura e Pietro Sabbazio controllando veramente il potere. Il primo agosto di quell'anno, primo agosto del 527, Giustino morì e senza che vi fosse nessuna discussione, Pietro Sabbazio rimase unico imperatore di Costantinopoli e pensate che il primo atto che fece fu di recarsi dalla moglie e nominarla a sua volta Augusta. Un atto che, ricordiamo, non era dovuto assolutamente, ma che indicava quanto la moglie fosse importante nel suo equilibrio politico. E così terminava il regno di Giustino ed iniziava il regno di uno degli imperatori più famosi della storia dell'impero romano. Credo sicuramente l'imperatore più noto e famoso dell'impero, tra virgolette, bizantino, anche se è presto per parlare di impero bizantino. E ora lo so, qualcuno di voi mi sta dicendo ma come? Ma chi ha mai sentito parlare di Flavio Pietro Sabbazio? Ma chi è questo imperatore così importante che ci dici ma io non ho mai sentito parlare? Beh, perché ve l'ho detto? Flavio Pietro Sabbazio era stato adottato da Giustino e quando era stato adottato da Giustino aveva deciso di prendere un altro nome che è il nome con cui normalmente viene ricordato. perché Flavio Pietro Sabbazio che governerà per tanti anni insieme alla moglie ex prostituta, ex attrice di nome Teodora non è nient'altri che Giustiniano cioè l'uomo che con il suo tentativo di restauratio imperi probabilmente cambierà per parecchio tempo la storia del Mediterraneo. Il protagonista della prossima puntata che credo sarà una delle più lunghe della serie Imperatores il protagonista anche della miniserie che partirà dopo quella puntata in cui parleremo delle sue guerre in occidente in particolare della guerra gotica insomma un uomo che in positivo o in negativo ha veramente forse cambiato la storia del Mediterraneo. Sono curioso di sapere quanti avevano già svelato il mio piccolo segreto che mi sono volutamente tenuto per tutta la puntata ma era un gioco che volevo mantenere insieme a voi spero di aver lasciato di aver fatto una piccola sorpresa a chi tutto questo non lo sapesse. Ad ogni modo mi fermo qua è stata una puntata molto lunga ma ho voluto già introdurre alcuni argomenti che poi ci serviranno nella prossima puntata che ripeto sarà infinita quindi più togliamo argomenti e li mettiamo meglio meglio è. come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto PayPal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre il nuovo materiale a disposizione di tutti. In particolare oggi per la donazione per l'aiuto che ci va dal punto di vista economico ma la ringrazio già sempre tantissimo per tutte le pidole che scrive oggi il mio ringraziamento va ad Antonella Romano. Grazie mille tantissimo per il tuo aiuto che ripeto in tutti i campi anche solo talvolta il supporto psicologico dura veramente da tanto. Quindi grazie mille e come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se qualcuno volesse curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso. Noi ci vediamo tra una settimana per parlare di Giustiniano e dovrò fare tirare ben bene il fiato ma ci vediamo molto più presto con nuove pidole di storia. A presto ciao ciao